Colleghe e colleghi, buongiorno. Siamo alla vigilia della ripartenza del 4 maggio. In virtù di questo siamo attivi, abbiamo pubblicato una serie di dispositivi che riguardano i cantieri, gli studi tecnici, la vita tecnica che si evolverà in questo momento. Quindi massima attenzione alla salute e alla sicurezza, prima di tutto. Ripartiamo tutti quanti insieme sperando di lavorare di più, il momento è molto molto difficile, lo avvertiamo tutti quanti, avverto un peso straordinario, quindi mi metto nei panni di tutti i colleghi che hanno difficoltà in questo momento e cerchiamo di interloquire innanzitutto con la Regione. Noi stiamo cercando di lavorare intensamente, con tanta voglia, tanta volontà, con gli altri quattro presidenti della Regione Campania, interloquiamo innanzitutto con la Regione perché il nostro compito è quello di interloquire con la Regione in questo momento, per ricercare lavoro, semplificare la vita, perché in questo momento se semplifichiamo, se diamo la possibilità a tutti di essere più veloci, più ceneri, può darsi che la signora Maria, tanto per essere chiari con un esempio, possa, come dire, pensare a rimettere in piedi un processo produttivo che è quello di investire, semmai, nella piccola ristrutturazione, nel fare qualche attività edilizia in qualche modo e quindi noi ripartiamo. Abbiamo sollecitato le istituzioni, appunto la Regione e chi ha possibilità di essere a fianco anche ai commercianti, ai perditori, agli artigiani per la ripartenza, quindi nel caso in cui debbano in qualche maniera fare degli atti tecnici affinché i documenti di valutazione della sicurezza si debbano aggiornare, i piani di sicurezza, una serie di attività, quindi stiamo cercando di fare anche qualche, se possibile, qualche convenzione con questi enti per cercare di dare un po' di respiro e un po' di lavoro a tutti i colleghi. Quindi questa è la nostra attività, abbiamo fatto documenti in questo periodo, abbiamo cercato di sollecitare tutte le istituzioni, devo dire la verità, purtroppo ancora oggi non abbiamo grosse risposte da questo punto di vista, ma noi non demordiamo, andiamo avanti perché ci mettiamo sempre tutta la forza, tutta la voglia, tutta la volontà di non mollare. Dobbiamo reagire a tutto questo, reagiamo tutti quanti insieme e quindi sempre lavorando in sicurezza io vi auguro di ripartire tutti e cercare di vederci a più presto da vicino per, come dire, scambiare anche quelle che sono la nostra cordialità, il nostro stare insieme. Vi prego di stare in sicurezza, di lavorare in sicurezza, di iniziare questo nuovo percorso, noi ci metteremo tutto l'impegno massimo possibile per cercare di trovare qualche sbocco in più di lavoro. I miei contatti ce li avete, quindi cerchiamo di essere sempre a disposizione per quello che possiamo. Io vi auguro ancora un'ottima ripartenza, un buon inizio e speriamo di vederci presto. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.